Che cosa meravigliosa il tracking del focus Dio mio Ahai Dio Ahai people of youtube Benvenuti in questo nuovo video Allora da titolo avrete già immagino capito di cosa parleremo Ma prendo una grossa palla al balzo per dire due cose La prima è che questo è il primo video che sto registrando effettivamente in 4k Non so se lo monterò in 1080 se lo monteremo in 4k deciderò in fase di montaggio E oltre a quello è anche il primo video appunto che sto provando con il microfono montato sull'appunto videocamera Quindi l'audio che sentirete probabilmente è diverso dal solito E vedrò anche io effettivamente com'è il risultato sia video sia audio E la seconda palla al balzo che prendo è quella di ringraziarvi E' stata già più di una metà di un anno e veramente siete cresciuti in tantissimi E vi ringrazio col cuore Vedo tantissimo affetto non solo verso le serie che stiamo portando ma verso anche di me Ed è una cosa che apprezzo tantissimo Mi fa davvero felicissimo Credetemi fa davvero felice Non solo le serie sul canale stanno andando bene Ma anche gli shorts vedo che vi siete affezionati tantissimo E ad oggi quando sto registrando questo video abbiamo appena finito tutta la serie di Infinite Fusion Ed è una serie a cui credo di essermi affezionato non poco Comunque chiudiamo questa piccola parentesi Ai ringraziamenti ci pensiamo nuovamente dopo Come appunto da titolo avrete letto Mi prendo anche io una piccola pausa estiva Per piccola cosa intendo Prenderò tutto o comunque quasi tutto il mese di agosto Un po' per rilassarmi ma anche per mettere come al solito i video da parte Cose che faccio praticamente ogni anno ad agosto ma anche verso fine dicembre Questo perché? Perché ho bisogno anche io di effettivamente staccare un po' Dal continuo montare così tanti video alla settimana Ma anche perché così me li metto da parte e con il lavoro attuale Riuscire a montarli tutti diventa a volte difficile perché magari ne salto uno Magari ne salto due E la cosa mi dispiace moltissimo perché ci tengo che i video vengano caricati sul canale Per chi non sapesse come il canale è attualmente diviso È diviso in questo modo Dal lunedì al venerdì vengono sempre caricati a mezzogiorno gli shorts Poi il lunedì e il giovedì Viene caricato un gioco nuovo o comunque un gioco che ho già giocato e che vorrei mostrarvi In questo caso viene caricato Dying Light Alle 16 viene caricato un gioco vecchio che può essere PS2, Nintendo DS, Game Boy Advance In questo momento stiamo caricando totalmente giochi PS2 e PS3 E appunto alle 16 viene caricato Cattivissimo Me E come per i shorts di Pokémon alle 17.30 vengono caricati ogni giorno Golden Sun Che è diciamo la serie lunga del momento Prima abbiamo avuto Persona 5, poi abbiamo avuto Saints Row, poi abbiamo avuto tutta la serie di Mario e Luigi E adesso Golden Sun Perché voglio avere questo gioco nella lista dei giochi che ho giocato sul mio canale Poi il martedì e il venerdì viene appunto caricato un altro gioco nuovo O comunque un gioco che ho già giocato e che voglio portarvi In questo caso appunto alle 2.30 in Famous E alle 16 sempre un gioco PS2, PS3 o comunque gioco vecchio in generale In questo caso Monsters & Co E subito dopo di quello alle 17.30 di nuovo Golden Sun Il mercoledì invece è un giorno più particolare Perché è il giorno in cui carico i video più speciali Fino a qualche settimana fa avevamo tutti i video della crociera che ho fatto ad aprire insieme alla mia ragazza Ed eventualmente vengono caricati altri video come gli unboxing, le recensioni o qualche video molto più particolare Dopo di quello attualmente sto facendo un altro gioco vecchio In questo momento sto giocando i giochi di Crash Siamo partiti da Crash Tag Team Racing Poi siamo passati a Off the Titans e ora Dominio sui Mutanti Chissà che magari dopo di quello faremo un altro gioco di Crash o magari cambieremo E appunto come per tutti gli altri giorni 17.30 Golden Sun Ogni tanto mi capita anche di caricare un video il sabato Che di solito è un altro shorts, magari speciale, magari sono in giro, magari mi succede qualcosa Ve lo voglio mostrare Però come vedete in questo canale una cosa sola è sempre rimasta La passione di portare video Non mi va di lasciarvi senza video E credetemi, prendo appunto questa pausa per poter mettere altri video da parte E non dovermi ritrovare magari in settimana a non sapere cosa caricare O non essere riuscito a caricare qualcosa perché non ne ho avuto il tempo Ed è anche per questo che vi ringrazio Perché a volte per me è difficile riuscire a caricare qualcosa E non vedo nessun tipo di lamentela Vedo che i video vi piacciono Vedo tantissimi commenti Davvero mi fate molto felice Vi ringrazio tantissimo per i attualmente 11.000 iscritti Davvero grazie tantissimo Prendiamo questo mese di pausa Che magari non è detto che magari non carichi anche qualcos'altro qualche giorno E appunto, ultima parentesi Gli shorts continueranno a essere caricati Ragazzi, grazie a tutti Davvero, davvero grazie a tutti quanti Spero che rimarrete ancora attaccati a questo canale E che il canale continui a crescere Io vi ringrazio ancora una volta Vi auguro una buona estate E ci vediamo molto presto Ciao a tutti